Il 31 gennaio del 2018 il Forum Sport Center è stato teatro di una svolta radicale per il mondo dello sport dilettantistico. ANIF Euro Wellness, associazione di categoria leader in Italia che tutela e rappresenta gli impianti sport e fitness, ha catalizzato l'interesse di più di 300 operatori del settore intorno alla presentazione della società sportiva dilettantistica lucrativa. Fino al 2017 la promozione di attività sportive era demandata ad enti associativi no profit e a società commerciali. Dal 1 gennaio 2018 la promozione stessa è stata affidata pertanto anche alle nuove SRL sportive profit, denominate società sportive dilettantistiche lucrative. Sono intervenuti Giampaolo Duregon, presidente ANIF Euro Wellness, Luigi Angelini, consigliere delegato di Wellness Foundation, l'onorevole Daniela Sbrollini, vicepresidente della dodicesima commissione Camera Affari Sociali e Sanità, il professor Leonardo Ferrara, capo ufficio legislativo del ministro Lotti, Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI, l'avvocato Alberto Succi, esperto diritto sportivo e societario, Iuri Zugolaro, esperto tributario fiscale, Andrea Mancino, coordinatore commissione fiscale del CONI. Un ringraziamento a tutti gli esperti e operatori del settore presenti. Un ringraziamento a tutti gli esperti,